Buongiorno Maria Cristina, oggi siamo al secondo giorno di fiera qui a Londra, Place in the Sun, Olympia Venue. Siamo con Maria Cristina Pintabona, dal lago Liberciano. Buongiorno Cristina. Buongiorno. Raccontami un po', qual è la prima impressione della fiera di Londra? Un evento molto interessante, ben organizzato, complimenti a FIIP. Grazie. Cosa ti aspetti da questa fiera? Ci aspettiamo di focalizzare qualche nuovo cliente proveniente appunto dal Regno Unito che voglia fissare nel nostro territorio, il bellissimo lago Liberciano e la bellissima città di Roma. Che forse non è molto conosciuto, quindi può essere una bella opportunità per far conoscere nuovi territori belli, non così conosciuti all'estero. Esatto, esatto. È una bellissima opportunità di sì. Bene, Maria Cristina in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, grazie e buona giornata. Grazie.